La nuova estate del Marina di Pescara, Presidente, inizia con un grande appuntamento che ormai è diventato un appuntamento fisso dell'estate pescarese Statica. Sì, ecco, noi quest'anno ci prepariamo all'ottava edizione, Statica è uno degli appuntamenti importanti per noi, per tutta la città. Il format è sempre più ammiccante, ci sono sempre novità importanti, musica, food, moda, cerchiamo di buyer, cerchiamo a 360 gradi di coprire più attività. Poi quest'anno per noi, per me soprattutto, è un anno speciale perché il 23 giugno sabato intitoleremo questo padiglione alla memoria di Daniela e Becci. Tra l'altro questa è l'occasione per sfruttare ulteriormente il Marina di Pescara, una grande struttura. Il Marina veramente sono anni che si adopera per queste attività ed è diventato un punto di riferimento con grande successo. Noi nel mio mandato vogliamo dargli sempre un ruolo più importante. Ci saranno anche grandi nomi e Statica abbraccia un po' per tutti i gusti, va da serate di enogastronomia del territorio, serate di enogastronomia a livello nazionale, concerti, serate di cinema, musica, quindi per i giovani, meno giovani, appassionati di teatro e quindi ce n'è per tutti i gusti.